a tutti gli sportivi un caloroso abbraccio e tanti auguri di buon Natale un felice 2022 che sia diverso che sia più tranquillo ma principalmente che sia più sereno da parte mia da parte della tutta la società di Bastogirardi con la speranza di rivederci sempre su questo campo anzi su questi campi il prossimo anno. Bastogirardi calcio augura a tutti i tifosi a tutti gli sportivi un sereno un felice Natale e un prospero anno nuovo che verrà auguri a tutti e buon anno e buon Natale auguro a tutti i nostri tifosi e tutti i sportivi tanti auguri di buon Natale felice anno nuovo da parte di tutto il Bastogirardi a nome del Bastogirardi un abbraccio a tutti ci rivediamo all'anno nuovo tantissimi auguri a tutti i tifosi e tutti gli abitanti di Bastogirardi e felice anno nuovo un abbraccio grande a tutti la squadra augura buon Natale e felice anno nuovo a tutti i sportivi buon Natale